Volevo ringraziare la collaborazione come sempre di Roberto Guarnieri, determinante, indispensabile, anche quella di Carlo Filippo Marignoli, nonché quella del nuovo attendente Massimo Urso. Devo ringraziare un'altra persona in particolare che ha dato tanto adottava nota e che continuerà a dare tanto, Piero Perretta, il grande Piero Perretta, collaboratori che io scelgo con molta determinazione, è molto difficile chiaramente andare d'accordo con me, richiedo molto, richiedo anche tanto dai cantanti, chiaramente non sto parlando dei grignani, sì, è bello, molto bello, ha bei capelli, forse faceva meglio a fare modello, secondo me, meglio, meglio. Per il disco come modello? C'è sicuro a me, a me piacciono tanto le donne invece, chi lo sa? Comunque, grignani, certo, non stavo parlando di quella voce là, con tutto il rispetto. Sto a parlare di Glenn Hughes, madonna mia, un inferno, vocalizzi allucinanti, una cosa che mi fa spavento pure a me, che canto pure io, Jorling Turner mi fa meno spavento, devo dire, ma questo è il disco in coppia, che volete di più? Due Deep Purple in un disco solo, di cui io solo ce l'ho, per cui è la novità, in anteprima della settimana scorsa. Glenn Hughes, Jorling Turner. Bisogna dire anche una cosa, che Glenn Hughes, diciamo da poco, aveva terminato il suo disco nuovo, dove c'è Bobby Kimball, ex cantante dei Toto in un pezzo, è un disco valido che ho già messo, vorrei rimetterlo a questo punto, e poi c'è Jorling Turner, che anche lui aveva, diciamo da poco, fatto un altro disco solistico con un chitarrista giapponese, è abbastanza bravo. E questa è la novità, appunto, loro due insieme invece, un colpo, una sorpresa, no? Tutte e due, ex cantante dei Deep Purple in un disco, con appunto Lucy Blackmore in Rainbow, con India Mountstein e Glenn Hughes, bassista invece dei Deep Purple e con tante altre storie, che sarebbe adesso troppo lungo raccontare, ma io so tutte e non è detto che un giorno non ve le racconto, ho tante storie da raccontarvi, anche sulla musica italiana, per cui mi vorrei ricordare un grosso gruppo, un gruppo con cui io ho collaborato molto, ho fatto l'insegnante a scuola di musica con il loro batterista storico per vario tempo, ho prodotto io il disco del loro chitarrista storico, con Cocciante alla voce, Innocenza e le tastiere, che è stata sigla di ottava nota, ovvero Rodolfo Baltese, prodotto da me, con gli altri ho avuto delle collaborazioni, ma il fatto vuole, un fatto molto strano, che a un certo momento il banco del mutuo soccorso decide di prendere un chitarrista invece scoperto da me, dunque affiancare allo storico Rodolfo Baltese un chitarrista metal. Io seppi immediatamente questa notizia che Max Smeraldi, ovvero una mia scoperta, stava per entrare nel banco del mutuo soccorso, come chitarrista diciamo più innovativo, più moderno. Calderoni quel giorno stava con me, stavamo lavorando insieme, gli ho detto per lui, ci hanno preso Max, lui neanche lo sapeva, gli ho detto quando vai in sala prove, sicuramente vicino a Vittorio Innocenzi, Rodolfo Baltese e Francesco Di Giacomo troverai Max Smeraldi. Dice, ma è strano che Vittorio non me l'ha detto, te lo dico io, si presentò in sala prove, appunto ai Castelli Romani e trovò il grandissimo Max Smeraldi e fecero questo disco dove Vittorio Innocenzi in questo brano canta lui, non c'è Di Giacomo, Calderoni viene escluso e viene immesso un grandissimo batterista, uno dei migliori batteristi italiani, appunto sconosciuti, che è il nuovo batterista tuttora del banco del mutuo soccorso, Maurizio Masi. Vittorio Innocenzi, tastiere voce, Max Smeraldi alla chitarra, il grande Maurizio Masi tra appunto una nuova forma di banco del mutuo soccorso con l'ingresso di Max Smeraldi e Vittorio Innocenzi alla voce pur considerando che c'era ancora Francesco Di Giacomo, ma non ottiene prove straordinarie Francesco in questo tredicesimo disco del banco, che vorrei ricordare stasera in onore appunto della fusione del grande Max Smeraldi con lo storico gruppo banco del mutuo soccorso. Un banco completamente rinnovato, devastato, con Max Smeraldi alla chitarra, devo dire poteva essere sfruttato meglio Max, abbiamo lavorato tanto insieme io e Max e abbiamo così delle idee da fare insieme, mi sto suonando molto il basso ultimamente, ho detto che i chitaristi ce ne stanno troppi, troppi, c'è quello che è un mostro, troppi, che voi dite più di Scott Michaud, di Gregao, di Ricci Cozzi, ma anche non so di un padre Bavini, neggiati, quello, troppo, troppo, quando è troppo è troppo. Di bassisti bravi ce ne stanno molto meno, sono molto bravo come bassista, anche come cantante. Per cui ho detto Max, vieni a farmi da ospite nei miei prossimi spettacoli, attacca la chitarra e suona. Cosa c'è di più grande di avere? Non uno dei più grandi chitaristi italiani, ma uno che può competere con i più grandi chitaristi del mondo senza nessun problema. Max Smeraldi è da paura, è terrificante, torna dopo molti anni, dopo molti problemi, anche suoi personali e ci ha telefonato in diretta per raccontarceli umilmente. Io non sarei tanto umile se fosse lui, perché è uno dei chitaristi più distruttivi del panorama musicale italiano. Questo è l'ultimo disco solistico uscito proprio da una settimana di Max Smeraldi. musica italiana, questa sera adottava nota. C'è una storia che riguarda me medesimo, io ho fatto esattamente, lo contate tutte, ci sono riuscito alla fine, 3.004 concerti nella mia vita, in quasi 40 anni di musica. Un periodo io andai in America perché mi prese un periodo, è molto strano, però ho testimonato da varie riviste e vari giornali, Grace Jones per un fatto casuale mi scelse per accompagnarla in dei concerti in America, da lì conobbi un altro giro, per cui rimasi in America un bel po' di tempo. La mia immagine all'epoca era ben diversa da quella di oggi, per cui uno mi ha detto, Richard, siccome non sei stato mai di moda, tu non passerai mai di moda. Se prima negli anni 60 tutti avevano i capelli corti, io ce l'avevo lunghi. Se dopo tutti avevano i capelli lunghi, con le barbe, con le cose, io ero tutto truccato come una donna, eccetera, eccetera, ma non per la scena. Dalla mattina fino alla sera, dalla sera fino alla mattina, per me era tutto una scena, cioè io andavo in scena sul palco vestito come mi vestivo la mattina, cioè per me era uguale. Per cui quel periodo praticamente che ho vissuto in America, io mi ricordo questo, ero molto truccato con varie parucche, i capelli miei, cose, occhiali, eccetera, eccetera, così. Diciamo che in Italia io, Gianni Leone, Stefano Urso del rovescio della medaglia, Gianni Leone del balletto di bronzo e Renato Zero, eravamo i quattro che inseguivano un certo tipo di andatura, di fisicità, ecco così, però vera, dalla mattina fino alla sera, dice vado sul palco, vado in camminino, mi vado a cambiare, no, vai sull'autobus vestito così, vai sulla metro, non c'era più la metro, scusate, eccetera, eccetera. Io mi accorsi, diciamo, che dopo un po' di concerti in America, stiamo a Oakland, non so poi siamo andati appunto in Canada, dove era quello là, eccetera, eccetera, c'era sempre un bambino molto magro, io mi chiedevo sempre chi era questo, l'avevo intravisto, molto magro, abbastanza alto, però un bambino, una volta mi pare, col padre venne, eccetera, eccetera, mi accorsi, seguiva, appunto, a Vancouver, al Holiday Inn, è vero sempre questo pal mio? E io mi chiedevo, non so chi è, eccetera, eccetera, un giorno mi rimase un dubbio, volevo scoprire chi era, per cui dissi al rhodi, non mi ricordo se, Claes Cornelius era, il mio rhodi, lì in Amere, Claes Cornelius era svedese, mi pare, con i capelli lunghi, con gli occhiali al John Lennon, mi ricordo se c'era anche Armando Velludo, eccetera, d'Italia, chiesi, guarda, fa entrare quel ragazzo, fammi capire che lo vedo sempre, poi mi ha chiesto l'autografo, poi gli dico due parole, molto magro, la faccia molto bianca, c'era i calzettoni, eccetera, era strano questa figura, non so, molto malaticcio, però sempre presente, perché avevo immaginato che sarà fatto dei chilometri di strada per andarmi a vedere, eccetera, eccetera, quel ragazzino ora si chiama Marlin Manson. Sicuramente uno dei gruppi che è appreso più nella storia dell'ultimo decorso rock, metal, è difficile definire dei generi, no, perché a volte sono più romantisi, a volte poi cambiano in continuazione il genere, questo è bello. Del gruppo c'è una canzone che è piaciuta molto, anche alla gente non interessata proprio dell'ambiente, heavy metal, ipertecnico, gente che non sa chi è Petrucci Pornoi, Jordan Rudes, James Labrie, non sanno chiaramente chi è Michael Romeo, Mike Finella, non sanno chi è Gioita Folla, Brett Garcett, Sean Lane, Scott Miscio, T.J. Elmerick, Jennifer Batten, Paul Gilbert, Tony McAlpine, Dennis Chambers, batterista, gente che non conosce, chiaramente, ma è giusto che sia così, perché se nessuno lo dice, la gente non lo conosce, conosce Antonazzi, Carboni, Giovannotti, Mazzotti, Pausini, certo, però forse il volere insito nella persona è diverso, solo che non conosce, non lo sa che esiste, è per questo che esiste, ottava nota, per gente che vorrebbe sentire qualcosa di più e non lo trova, io ve la do, ve la do la chiave di quella porta, apritela, Dream Theater. Dream Theater, Dream Theater, è tornato a casa il mio amore. anche io sono innamorato, è una donna, una grande vocalist, Esther Esposito, a me piace come canta, l'avete vista sul palco con me, poi ci siamo lasciati, poi ci siamo rinnessi insieme, siamo andati oltre la vita, oltre la morte, siamo ritornati alla vita insieme, ci dice qualcosa di indefinibile, stasera sta accanto a me, lì giù, grazie Esther, grazie. Adesso, le nuove scoperte, la nuova scoperta, due, seconda scoperta, i primi erano i four front della settimana scorsa, dove c'è un bassista, vi ho detto, mi sono messo a suonare basso, mi mancavano un po' di riferimenti, cioè ce ne avevo tanti, i soliti, i pastori, io sono Stanley Clark, Jeff Berlin, quanti, poi miung, quello, tutti bravi, tutti mostri, jazz, fusion, blues, metal progressive, tutti bravi, mi mancava qualcos'altro, ho detto, mi mancava anche Billy Sheehan, sì, l'ho trovato in questo bassista qua, io non ho mai sentito un bassista suona cosa in vita mia, mai. un gruppo sconosciuto, un disco nuovo, questa è la scoperta della settimana scorsa, che continuerà per un mese, adottava nota, e poi immediatamente dopo, la scoperta nuova di stasera, una cosa allucinante, sconvolgente, poche volte ho sentito in vita mia suonare così, ma sono tutti così bravi, però bisogna scoprirli perché ho catasti, grazie a Roberto Guarnieri e Carlo Filippo Marignoli, ma devo ringraziare anche Piero Peretta stasera, indispensabile Piero Peretta per la trasmissione di stasera, che mi ha trovato proprio quello che cercavo, grazie Piero, sei veramente un amico, oltre ad essere una persona meravigliosa, appunto Guarnieri, riempito la cassa di dischi, anche i loro consigli giustamente, però bisogna trovare poi, perché sono così tanti dischi che avrei bisogno di trasmissioni tutte le sere per farmi risentire tutti, allora devo scegliere quelli più appuntabili, quelli ancora più importanti, più determinanti, più carnali nei confronti della musica, più di intelletto, ma anche di veracità, di spontaneità, è difficile trovare un bilancio, ma questa volta non è stato difficile perché non c'è di meglio di questo al mondo, due gruppi veramente da paura, i primi sono Spaced Out. Si chiamano Spaced Out e è stata la mia scoperta della settimana scorsa e questa settimana, quest'oggi, questa sera che siamo in diretta tra l'altro, ecco, sembra che è registrata magari perché non ci sono le telefonate, però non lo so, dipende, io sono molto istintivo, mi piacerebbe sentire tanto, fare un ponte tra me e voi, però c'è anche tanta musica da sentire, da ascoltare, tante storie da raccontare, non lo so, vediamo, le metteremo in un'altra occasione. Però c'è un altro gruppo, appunto, un'altra scoperta proprio di questa sera, un gruppo sensazionale, ve lo consiglio veramente di cuore, vi ho detto che io sono molto serio e severo quando dico una cosa perché la faccia era mia, se la perdono, ma ritrovo, gli altri sono capaci a dire di tutto, io no, veramente un gruppo stratosferico, fulminante, fanno veramente impressione, questo è un trio, si chiamano Cosmo Squad. Siamo in chiusura di trasmissione, devo ringraziare appunto Roberto Guardieri, grande collaboratore Massimo Urso, il nuovo collaboratore da tre settimane, Piero Perretta, stasera veramente ottimo collaboratore, Carlo Filippo Marioli, grande, storico appunto, conosciuto dappertutto da anni che viaggia in questo ambiente. Io mi rendo conto comunque di essere proprio vittima dei miei eccessi, io mi piacerebbe proprio chiedere pace, solo pace, ad esempio quella pace di quei boschi in penombra, quando vedi quei boschi in penombra senti la pace, solo che ne ha paura poi il mio istinto. Infatti per gente come me l'unica salvezza sono quelle lante desolate, quelle praterie sconfinate, quel selvaggio West, come il mio io selvaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.